Musica 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 Scita è stato in condizioni di neve mossa, neve fresca mossa devo dire che mi è piaciuto molto nelle curve medie, di media ampiezza e anche quelle ampie l'ho trovato molto stabile in queste condizioni difficili ho fatto un pochino più fatica a gestirlo invece nell'arco corto bisognava essere sempre belli centrali per riuscire a gestire le rotazioni dei piedi tutto sommato un bello sci in queste condizioni difficili uno sci che nonostante questa neve fresca e molto bagnata quindi una neve che aggancia molto ho trovato molto galleggevole, molto maneggevole quindi sicuramente uno sci che risulta abbastanza leggero ai piedi adatto a sciatori che magari amano sciare anche in neve non fuori pista ma in pista con neve fresca, trasformata, neve morbida non necessariamente solo per la neve dura sui pochi tratti con neve dura l'ho trovato leggermente troppo facile troppo morbido che dava un po' poco sostegno lo sci che mi ha entusiasmato tantissimo nelle curve strette su questa tipologia di neve morbida mi sono trovato subito bene la punta morbida sicuramente ti aiuta all'ingresso in curva un pochino poco stabile nell'ampio e nel medio però tutto sommato è uno sci molto divertente che non affattica tanto sci che ho trovato molto semplice su questa neve nuova e fresca in particolare sulle curve corte, le curve medie, sulle curve ampie un po' più difficoltoso però comunque uno sci ottimo che va molto bene per tutte le persone è davvero davvero divertente su questa neve qua anche se un po' sconnessa a 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